È tutto pronto a Santa Maria Maggiore per l'edizione numero 41 del raduno internazionale dello Spazzacamino in programma dal 30 agosto al 2 settembre, un ricco programma che si aprirà domani alle 15 nel parco di Villa Antonia con iniziativa Ricordiamo i raduni passati e la proiezione di video suggestivi. La giornata proseguirà alle 21 con esibizioni di musica live a cura dei commercianti di Santa Maria Maggiore e nel parco di Villa Antonia con il concerto dei Pentagrammi a cura della Proloquo. Alle 23 il centro storico sarà illuminato dal tradizionale spettacolo pirotecnico, sabato 1 settembre alle 10.30 a Malesco ci sarà l'omaggio floreale al monumento del piccolo Rusca, mentre alle 4 del pomeriggio sfilata per le vie di Craveggia. La serata si concluderà ancora a Santa Maria Maggiore al parco di Villa Antonia con tanta musica e un rifornito punto ristoro. Quindi domenica con l'evento clou, l'attesissima scenografica sfilata di mille spazzacamini con gli attrezzi da lavoro accompagnati da gruppi in costume tradizionale e bande musicali. La parata sarà aperta quest'anno dalla GMO, l'orchestra dei giovani musicisti italiani diretta dal maestro Alberto Lanza.